eccoci siamo live live ci siamo siamo live in realtà ho fatto un po di confusione io perché volevo che il mio ospite entrasse dopo ma ho fatto confusione mi sono agitata tantissimo e allora il nostro ospite è già qui dobbiamo aspettare soltanto un momento perché dobbiamo aspettare che facebook sia si connetta con noi o quantomeno che la diretta parta e allora bisogna avere solo un po di pazienza vediamo un po quando ci vediamo eccoci qua siamo ci siamo siamo decisamente live ciao null ciao allora facciamo una cosa visto che voglio fare le cose come si deve adesso io ti faccio sparire come un po di magia e poi ti faccio tornare ok ci vediamo tra poco e non te ne andare buonasera a tutti ovviamente le novità portano un po di confusione mi sono agitata e l'ho fatto comparire subito accidenti ma volevo farvi una presentazione senza che lui ci fosse la persona che avete visto si chiama null poi spiegheremo il perché se vorrà ma che cosa è successo che pochissimo tempo fa ophelia bisè l'autrice del romanzo del romanzo per bambini che sto leggendo che si intitola megan e maghi migranti mi ha inviato un video dove c'era questo ragazzino ragazzo perché ragazzino guarda è veramente già grande è meravigliosamente piccolo essendo già grande o viceversa e mi ha fatto vedere il video nel quale lui recensiva il romanzo megan e i maghi migranti io sono letteralmente impazzita ho detto io voglio conoscere questo bambino allora ho scritto un messaggio mi ha risposto la mamma gentilissima e voilà quindi questa sera vi presento nulle e vi racconteremo mano a mano quello che che faremo questa sera intanto lo faccio comparire ciao bene arrivato tesoro come stai bene grazie sembra che sia la tua prima diretta eh sì sei emozionato un po bene è fondamentale emozionarsi sempre io intanto vorrei salutare il mio compagno di avventura che è gigin perché a lunedì guai se non mostro gigin ho soltanto evitato di mostrarlo quel giorno ad alghero ma perché non è che fossi in compagnia di uno straniero ero proprio sola e in valigia il topino non ci stava al mio orsetto e quindi ho dovuto per forza lasciarlo a casa altrimenti il lunedì lui è sempre con me ma questa sera mi ha detto che non si offende perché ho un altro ospite visto che siamo al 20 di luglio e fa caldissimo il mio tesoro io lo posiziono un po più qua se poi voi non lo vedete ve lo faccio vedere alla fine adesso ve lo faccio vedere forse se troverò poi il cuscino ma capite che questa sera io sono sono impegnata con con un ragazzo che si chiama null e del quale ho piacere di ho piacere di 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 non so di far di farvelo conoscere ho piacere che voi conosciate questo ragazzino che ha cominciato tre anni fa a recensire libri e allora io mi chiedo come è nata la passione per la lettura che sei così piccolo ma grande allora la mia passione per la lettura è nata di sicuro da mia mamma che lei si ritagliava una mezz'oretta in cui mi leggeva mi metteva di fianco a lei e mi leggeva io dopo sbagliavo alcuni suoi libri per sentirmi più grande quando ero piccolo invece quando ho imparato a leggere quindi sette otto anni anche prima mi sa ha continuato a leggere a ritagliare su mezz'oretta è continuato a leggermi ma io dopo dovevo leggere un altro libro tutto mio in cui mi dovevo impersonificare nel protagonista in un nuovo mondo ma che bello e ti ricordi qual era questo libro no non me lo ricordo però ne ho letti molti più di me sai sicuramente ne hai letti più di me e cosa ti volevo dire ma e qual è il momento della giornata che dedichi alla lettura penso sia la sera sicuramente la sera perché la sera non devi andare a dormire no dopo le prima leggo poi vado a dormire sono sempre stato abituato così quindi ho mantenuto questa questo questo abitua questo abituamento questo abituamento mi piace questo nuovo termine creato stasera giusto per noi abituamento ricordatevelo perché secondo me nel prossimo romanzo ci sarà ascolta e vabbè io lo so però ragazzi non posso non chiedertelo dai raccontaci com'è che ti è venuto di chiamarti null perché ragazzi ovviamente è un nome d'arte eh e allora raccontaci perché null allora perché null perché io gioco molto a un videogioco oltre che a leggere questo video gioco si chiama minecraft 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 craft ok è un gioco fatto di cubi e pixel null è un cattivo sempre di questo gioco che a me piace particolarmente più degli altri e quindi quindi visto che mi piace così tanto il gioco ho deciso di chiamarmi così ma è bellissimo è bellissimo anche perché null di fatto ricorda la parola nulla no cioè la prima cosa che viene in mente o si sono dimenticati di mettere di mettere una vocale o di fare che cosa in effetti sta bene con quasi tutte le vocali nullo nulla nulle nulli bene dopo questo svarione ma non importa i miei i miei i miei followers sono abituati che io sia un po polle e di fatto è è fantastico io ti dico la verità che visto che quando ho sentito la mamma continuava a dire nulle ho perduto un attimo un po di paura che ti chiamassi così veramente e allora diceva beh magari è diminutivo di un nome più grande di nome più lungo invece abbiamo chiarito che invece tu ti chiami lorenzo lorenzo per i nostri amici lettori si chiama null e allora dal momento che ti piace tanto leggere ti piace tanto recensire io direi che potremmo cominciare a leggere prima che cominci a farmi magari qualche domanda anche tu secondo me varrebbe la pena leggere l'autrice che ci ha fatto incontrare che cosa ne pensi penso che sia un'idea bellissimo e allora andiamo andiamo a leggere tratto da megan e i maghi migranti un piccolo dialogo che io e nulla abbiamo preparato per voi andiamo a prendere tu hai il romanzo perché io ho soltanto l'ipad hai voglia di far vedere a tutti la copertina che è la prima cosa della quale mi sono innamorata questa bimbariccia è la mia passione eccolo o feglia vise megan e i maghi migranti sono sicura che molti dei miei ascoltatori abbiano già comprato il libro abbiano già iniziato a leggerlo l'ultima volta c'è stato c'è stato non so se sei visto null però l'ultima volta ho avuto qualche problemino di connessione e quindi non ho terminato il capitolo questa sera sono con te e quindi la prossima settimana terminerò il capitolo e ne leggerò un altro per farmi perdonare questa assenza perché sta diventando peggio di beautiful allora andiamo a leggere allora leggiamo un passo dal capitolo 10 le orme e la baracca di legno la rosa è il logo del panificio dove lavorava mariam di fatti il negozio si chiama la rosa di pane già come ha fatto a non pensarci prima ma le orme e ginevra e ugo non lo so non so cosa c'entrano questa sera tieniti pronta vengo a prenderti a mezzanotte e andremo in quel posto oh ma ci caccieremo nei guai non ti facevo così fifona non sono fifona è solo che ad olfen potrebbe cogliercela sprovvista ecco prima che accada seremo noi ad anticipare le sue mosse cosa avete fatto non era lei scusaci scusaci ad olfe noi non immaginavamo che non sapevamo idioti vi avevo detto che la rosa era nera non rossa c'è qualcuno lì dietro correte a prenderli megan e malaussene erano stati scoperti e questo deponeva assai male per loro sarebbero stati sicuramente uccisi nel giro di pochi minuti malaussene prese per mano megan e iniziarono a correre ma la neve era alta e riuscivano ad avanzare a fatica malaussene cercò di sforzarsi per trovare una via d'uscita ma non riusciva a fare altro che affondare nella neve entrambi erano consapevoli che questa volta non sarebbero riusciti a salvarsi bello questo romanzo è c'è una una c'è un pezzetto che tu ti ricordi a seguito del quale hai detto devo finire immediatamente questo libro che cos'è di questo romanzo che ti è piaciuto di più perché io lo so perché la recensione tua l'ho ascoltata però racconta ai nostri ascoltatori l'inizio vi spiego meglio il fatto che lei sia stata ritrovata a seguito di un incendio con un buco nell'orecchio come un orecchino in cui c'è stato attaccato un filo rosso un filo arancione e che quindi questa mamma diciamo adottiva l'ha portata a casa e l'ha curata quasi fosse sua figlia uguale come se fosse sua figlia anche se suo marito era un po' contrairriato e da lì ho scoperto che quel libro dovevo leggere lo dovevo mangiare subito e così è stato e così è stato bene benissimo io invece ho visto la copertina su facebook forse ma sai che non mi ricordo dove ho visto la copertina la prima volta e le ho scritto ho scritto ad Ophelia che tra l'altro ci sta guardando e ha scritto e emozione a mille ci ha mandato un messaggio poi guardiamo tra un po' guardiamo un po' che cosa che cosa ci dicono è un bravissimi ben trovati anche per poco voglio seguirvi in diretta grazie grazie Elvira che simpatico Null questa è una bella signora che ce lo dice poi chi c'è ciao domanda a Null conosci Matteo Faire 97? sì come mai lo conosci? perché giro un po' su youtube fantastico ce l'ha scritto Alessandro Porri che è uno scrittore di fiabe e scrive delle poesie bellissime presto lo presto leggerò una sua poesia alla fine delle mie dirette Ophelia ci saluta ancora bene direi che possiamo cominciare no possiamo continuare allora ho delle domande qui per me? ovviamente vai sono pronta come è nata invece la tua passione per la lettura? allora la mia passione per la lettura è nata a seguito di un romanzo che ho letto che si intitola Non volare via di Sara Rattaro io non sono mai stata una lettrice forte devo dire la verità però caspita quel libro mi ha portato via completamente mi ricordo che andavo a Milano per una riunione e avevo questo libro fatto Genova Milano Milano Genova per tre quarti in lacrime perché è un libro che parla di questo ragazzino che è nato sordo e ha una sorella più grande che si prenderà cura di lui ed è un romanzo bellissimo magari non è proprio per ragazzi della tua età ma sicuramente tra qualche anno te lo consiglierò perché è molto 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 bello e da lì ho fatto come ho fatto con te no io quando mi appassiona ad una cosa devo andare a fondo e allora ho scritto all'autrice che si chiama Sara Rattaro che peraltro so che tu conosci abbiamo scoperto che lui ha letto a marzo il cacciatore di sogni e infatti questa sera avremo modo di leggere anche un pochino di lui il nostro Albert e di fatto le ho scritto e le ho detto guarda mi sono innamorata della tua scrittura e ho detto figurati chissà quando mi risponderà e invece caspita mi ha risposto subito e abbiamo iniziato a scriverci finché ci siamo conosciute siamo diventate super amiche e allora aspettavo con ansia che lei uscisse con i suoi romanzi e da lì mi è venuta un po' la voglia di leggere e voilà ok perché e quando hai deciso di leggere ad alta voce? allora la lettura ad alta voce è nata come piano B ti spiego io dal 2006 sono in una scuola di teatro dalla quale poi sono stata reclutata e sono entrata a far parte dell'accompagnia teatrale che ha un nome difficilissimo la pinguicola sulle vigne perché la pinguicola è l'unica pianta autoctona carnivore ligure e la mia insegnante di teatro che è Graziella Martinoli che saluto di fatto sosteneva che questa pinguicola che cresceva dappertutto nell'umido nei meandri dei muri eccetera aveva la stessa capabilità del teatro e quindi ovunque si poteva scorgere cultura e teatro esattamente come la pinguicola sulle vigne perché il primo posto dove Graziella ha messo la sua scuola ha creato la sua scuola era in piazza delle vigne che è un posto a Genova nei vicori di Genova voilà quindi io ho fatto tanti anni di teatro che mi piaceva moltissimo anche se ogni volta che dovevo fare uno spettacolo alla mattina soffrivo da morire dicevo ma chi me l'ha fatto fare avevo una paura lull una paura folle tutte le volte avrei voluto che la serata non cominciasse poi una volta che entravo in scena facevo qualche strafalcione infatti avevo il mio collega Lorenzo che mi salvava sempre dai miei vuoti di memoria improvvisi ormai lui mi conosceva molto bene quindi a seconda della mia espressione capiva se avevo un vuoto completo mnemonico e allora mi aiutava insomma per stringere perché quando parlo di queste cose io sono prolissa da morire è successo che siamo diventati tutti grandi anzi io loro già loro erano più piccoli sono cresciute e ho iniziato a lavorare quindi il tempo per gli spettacoli non c'era più quantomeno per provare gli spettacoli e allora a seguito della mia amicizia con Sara Rattaro ho cominciato a leggere i suoi romanzi un bel giorno lei mi ha detto ascolta ma perché non vieni alla presentazione del mio romanzo niente come te a leggere e io gli ho detto caspita ma io come faccio la lettura interpretata sono corsa dalla mia insegnante Graziella Martinoglio ho detto ti prego ti prego aiutami aiutami che devo assolutamente imparare a leggere ad alta voce e così mi sono riciclata e sono una lettrice ho iniziato così e poi mi sono appassionata ho cominciato a leggere per altri autori e poi con il lockdown mi si è aperta questa opportunità di fare tutti i giorni dirette per bambini per grandi e voilà un audiolibro a dicembre ho fatto il mio primo audiolibro che credo che ormai lo sappiano anche i muri perché l'ho raccontato veramente a tutto il mondo e sono andata a registrare a Milano che si chiama la giusta distanza di Sara Rattaro e vediamo io lo definisco il mio piano B perché ho un lavoro che mi piace moltissimo però anche pensare di continuare su questa strada mi farebbe piacere ecco ok un'altra domanda è qual è stato il tuo primo libro che hai letto sul canale? ah questa guarda questa domanda è l'unica alla quale mi sono preparata perché proprio non me lo ricordavo sembra una intervista monotematica visto che l'autrice è Sara Rattaro però è Sara Rattaro il libro si intitola L'amore addosso io ho iniziato con queste clip da un minuto e venti perché chiaramente sbagliavo e non sono capace a tagliare i video a cucire a rifare e quindi facevo video brevissimi poi piano piano sono diventata sempre più veloce e quindi però quello è il mio primo ma adesso tocca un po' a me farti qualche domanda eh ok sì sì ti ho risposto vero sì l'amore addosso ti ho risposto allora io che invece sono andata sono andata anch'io a curiosare un po' ho trovato che tu caspita ma non solo recensisci libri ma hai fatto anche delle super interviste ad autori importanti e allora mi chiedo primo come hai fatto a contattarli e secondo anzi prima rispondimi a questa come come sei arrivato a loro fammi un esempio di un autore non che ti è piaciuto di più perché sono tutti bravi però allora facciamo così per non far torto a nessuno se te lo ricordi il primo autore che hai intervistato allora può essere anche il secondo eh credo che sia Daniele di Castro ah sì penso che sia lui credo di sì il primo sì credo che sia lui e come è andata come l'hai contattato allora via email l'ho contattato sicuro via email e ho iniziato a fargli delle domande e gli chiedi se potevo fare gli intervisti e come si fa a dirti di no? non si può non lo so non si può te lo dico io non si può se io fossi una scrittrice e mi scrivesse una mail un ragazzo come te mi chiedesse se posso farti un'intervista io vengo a Milano a fare l'intervista prendo la macchina e vengo a casa tua dietro quella dietro davanti a quella libreria meravigliosa a fare l'intervista e ascolta ti piace più intervistare o recensire? allora intervistare fai conoscere cioè il mio obiettivo è far conoscere di più l'autore invece fare la recensione è far conoscere di più il libro certo quindi ti piace tutte e due sì uguale ti piace fare tutte e due le cose anche a me ho scoperto che qualche volta mi è capitato di fare qualche intervista ho intervistato Alessandra Scagliola che è una scrittrice di Torino che ha scritto più dentro che fuori ho intervistato Francesco Brunetti che è uscito con una siloge di poesie e devo dire che mi piace mi piace conoscere chiacchierare poi questa cosa del lockdown che è stato un evento davvero importante davvero drammatico per quanto mi riguarda ha acceso una lampadina e quindi ha fatto sì che io avessi voglia di avere più contatti e queste dirette mi rendono mi fanno felice c'è poco da fare alla sera ragiono su che cosa vorrò leggere mi dovrei aiutare un po' sai adesso con le fiabe e i racconti per ragazzi perché potremmo fare qualcosa di interessante insieme io e te secondo me ti consiglio un po' di libri bravo mi consiglio un po' di libri così facciamo delle letture un po' per i ragazzi anche un po' più grandi io onestamente spazio un po' tra piccini medi e grandi ma sul medio o meno a parte Sara il cacciatore di sogni sentirai parlare di me adesso poi uscirà quel suo terzo romanzo per ragazzi sui ragazzi sono un po' meno pratica quindi avrò bisogno del tuo aiuto e ascolta ti faccio ancora una domanda e poi tu hai ancora delle domande quante domande mi devi fare ancora? allora tre tre? e io invece te ne devo fare ancora due allora fammene ancora una tu allora pensando a tutti i libri che hai letto sinora qual è che ti ha divertito di più? c'è un genere che preferisci rispetto agli altri? ah guarda sicuramente un genere che a me piace tanto è pensavi che mi fossi bloccata no un genere che a me piace moltissimo è leggere e scoprirmi sorridente cioè mentre leggo un libro mi piace addirittura a volte ho il fidanzato a fianco che mi guarda e mi dice ma sei matta parli da sola perché io quando riesco a vivere insieme al libro e a volte rido mi faccio anche delle grasse risate sorrido quindi direi che il mio genere potrebbe essere quello serio con un filo di ironia o magari anche le persone che riescono un po' forse perché mi somigliano a prendersi in giro no? le persone autoironiche a me piacciono moltissimo e recentemente ho letto un paio di romanzi che mi hanno riportato lì da dire caspita avrei voluto scriverlo io uno è Happy Happy Family di Stefania Nascimbeni un altro è Buona la prima di Fabienne Agliardi e sono libri che comunque mi hanno mi hanno mi hanno mosso da questo punto di vista d'altra parte mi piacciono anche i romanzi il filone di Sara Rattaro che è un filone contemporaneo mi piace moltissimo perché lei alterna storie di finzione assoluta a storie vere e quindi anche leggere qualcosa che so che è stato vissuto veramente credo che sia interessante a me piace molto direi di fare così a questo punto abbiamo ancora due domande per uno esatto e allora che cosa ne pensi di affrontare la lettura del cacciatore dei sogni? te lo chiedi che bello che con StreamYard ragazzi notate è al diritto devi sapere nulle che quando faccio le dirette con Facebook visto che mi faccio il selfie praticamente l'auto l'autocam si vedono tutti al contrario e quindi finisce che uno legge erotaikak non voleva essere kak ma è così kak ingosid ecco quindi uno legge questo libro qua e dice ma che caspita è non è è invece perché si legge al contrario allora andiamo facciamo i seri e andiamo a prendere questo romanzo bellissimo sai cosa faccio io? leggo anche la quarta di copertina cosa ne dici? così do un'idea di che cosa di che cosa andiamo a leggere Luca che da grande sogna di diventare pianista ha una mano rotta un fratello maggiore piuttosto fastidioso una mamma rompiscatolo rompiscatole e un aereo da prendere per tornare da Barcellona in Italia è il 4 luglio 1984 e su quell'aereo la sua vita cambia per sempre Luca incontra un eroe no non si tratta di Maradona che in aeroporto ha tirato l'attenzione di tutti e in particolare di suo fratello Filippo ma di un misterioso signore che somiglia un po' a Babbo Natale e occupa il sedile accanto al suo all'improvviso l'uomo gli chiede posso raccontarti una storia? comincia così un'avventura straordinaria fatta di parole e ricordi con una sorpresa davvero inaspettata l'avventura di un cacciatore di sogni lo scienziato Albert Bruce Sabin allora andiamo a leggere ce la posso fare eccoci qua perché non viene vicino a me? il posto accanto al finestrino sarà vuoto mia moglie non è potuta partire con me signora stia tranquilla sono un medico posso controllare che suo figlio non faccia movimenti inopportuni per la mano grazie qui non sarei disturbato come ti chiami? Luca oh piacere Luca io sono Bruce parli inglese? un po' anche io parlo un po' d'italiano ci capiremo cosa hai fatto alla mano? mio fratello mi ha fatto cadere lui di tarotte oh presto starei bene lo spero io sono il pianoforte davvero ma che cosa meravigliosa voglio andare il conservatorio e imparare le variazioni di Goldberg è il mio sogno ma ho anche un po' di paura la dottoressa ha detto che ci metterò parecchio per tornare a suonare come prima oh andrà tutto per il meglio basta che tu lo voglia con tutto te stesso davvero basta quello ne sono certo lo spero tanto posso raccontarti una storia quale? è la storia di un ragazzino nato cieco da un occhio che ha salvato il mondo un supereroe? no sono un ragazzo come te come me? si chiamava Albert ed era nato a Bialystok nel 1906 e dov'è? in Polonia ma a quei tempi era ancora sotto il dominio dell'impero russo Bialystok era una città bellissima piena di cose da visitare di storie da ricordare ma il suo destino non è mai stato dei più facili cosa è successo? quando Albert era ancora un bambino durante la prima guerra mondiale esattamente il 20 aprile 1915 Bialystok fu bombardata dall'esercito tedesco che la occupò per diversi mesi quello fu solo l'inizio di una lunga serie di anni molto difficili per tante famiglie che ci abitavano la guerra è l'esperienza peggiore che si possa vivere non porta mai nulla di buono tu sai cos'è l'antisemitismo? l'hai già studiato a scuola? ha a che fare con Hitler e con gli ebrei? la nostra prof ci ha spiegato che Hitler era un uomo crudele che pensava solo di poter conquistare il mondo con la violenza è vero ma le persecuzioni subite dagli ebrei hanno origini antiche è così è così ingiusto lo disse anche Albert un giorno tornando da scuola lui e un suo compagno erano stati presi assassate da un gruppo di ragazzini che li avevano chiamati sporchi ebrei Albert che come ti ho detto era nato cieco dall'occhio destro fu ferito vicino all'occhio sano e poi cos'è successo? eh quando arrivò a casa sanguinante e raccontò l'accaduto ma Mattili si preoccupò molto lo medicò e lo coccolò però sempre quella sera subito dopo aver cenato e aspettato che Albert prendesse sonno decise di parlare con suo marito è bello vero? sì molto anche a me è piaciuto molto e poi è una storia vera tu lo sai che quest'uomo ha salvato ha salvato tutti noi perché ha regalato il vaccino a tutto il mondo lui ha detto Hitler mi ha il fascismo mi ha sterminato la famiglia e io per punizione tra virgolette regalo a tutto il mondo il mio vaccino quindi è una storia è una storia molto importante ascolta ti va di guardare un po' di guardare un po' di leggere un po' con me ma li leggo io i commenti te li leggo un po' che cosa ci stanno dicendo dalla rete eh allora vediamo un po' in tanti stanno guardando il video stando in silenzio che simpatico o null ciao ragazzi ben trovati anche per poco voglio seguirvi in diretta questo l'avevo già letto bravissimi ciao Matteo Fire ti saluta è mio figlio hai capito abbiamo fatto una carrabbata Alessandro Porri che è l'autore di Fiabe edite tra l'altro da Laura Capone che è una casa editrice Laura Capone editore guarda un po' poi Isabella sta guardando che carini che siete ci dicono siamo anche carini grazie siete stupendi un abbraccio a Lucia simpaticissimo null è un giornalista nato ma bravissimo lo sapevo che avresti avuto successo con i miei followers poi poi qua guardano Caspiterina ci piace proprio l'ospite ecco stai a vedere che adesso diranno che vogliono sempre te non vorranno più Gigi ma speriamo di no c'è anche Fabrizio c'è anche una persona è un medico ma non diciamo il nome ciao Lucia che ospite oggi ciao siete proprio belli grazie grazie poi 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 cosa ci dicono ancora buonasera che meraviglia il tuo ospite bravi ed emozionantissimi Sabrina De Bastiani che ha tre gemelli non uno tre gemelli Luca Luca Alessio Alessio ed Emma sono i miei tre gemelli sono i miei fan e anche la mamma è una mia fan e scrive stupendissimi poi ci dicono è fantastico bene direi che questa diretta sta avendo successo cosa ne dici mi sembra proprio che stiamo piacendo insieme molto bene molto bene chissà se poi ci saranno anche i tuoi i tuoi followers che ne hai molti più di me peraltro perché la mamma ha un gruppo tipo con 12.000 adepti io 12.000 adepti non so se li avrò neanche tra dieci anni l'altra volta mia mamma mi ha detto finirà che diventi famosa e le ho detto sì a 94 anni divento famosa e dirò guarda mamma c'è quel romanzo che mi hanno chiesto di leggere ma io non riesco più a fare bene le voci perché sono un po' perché è bella finirà così vabbè a parte questo dove siamo arrivati che cosa dobbiamo dirci adesso tocca a me e farti una domanda se non erro tocca a me tocca a me ne abbiamo ancora due per uno allora questa domanda è la prima che mi è venuta in mente quando ho deciso di farti un'intervista che cosa dicono i tuoi compagni di classe allora all'inizio quando ho aperto il canale nel 2017 scusa ci puoi dire il titolo del canale youtube perdonami se no poi ce lo dimentichiamo in libreria con null in libreria con null il mio invece è luci con due c la i normale trattino basso underscore legge luci underscore legge e in libreria con null vai ok allora all'inizio perché erano novità erano tutti entusiasti dopo quando è passata questo momento hanno non se ne hai più parlato in classe anche perché io sono molte cose perché faccio molti sport quindi sono molte cose faccio cavallo calcio faccio teatro e cavallo ma che bello e quindi mi e ti piace andare a cavallo vai al galoppo già sì sì faccio salti ma davvero sì sì ma senti ma adesso questa non è prevista questa domanda qua ma si può sapere ma che caspita vorrai fare tu da grande facendo già tutte queste cose a 11 anni signore signore a 11 anni sto facciullo che cos'è scrivere ti piace scrivere è un mistero è un mistero ti piace scrivere sì però insomma esatto non riesco a parlare in sessione e intervistare certamente beh un po' di scuola ce l'hai ancora ti vorrei dire che ti tocca ancora un po' di scuola un po' ma a scuola sei bravo no sì sì me la cavo me la cavi che hanno fatto quest'anno che è stato un anno un po' particolare ero in quinta elementare quindi devo andare wow quindi cominciamo la prima media eh sì e avrei dei tuoi avrei dei compagni delle elementari con te oppure cambierai tutto lo sai già no no ho dei compagni tre delle elementari e poi cambio tutto però li conosco già ah conosci già i tuoi compagni delle medie ma c'è qualcuno che fa lo sport che fa calcio con te no cioè fanno calcio ma non con me non con te e tu in che ruolo giochi a calcio allora gioco terzino sinistro alla sinistra e fascia sinistra attaccante anche punta cioè praticamente fai tutto e il portiere no il portiere non riesce ad arrivare in porta a parare dopo che da solo ti sei tirato uno il portiere lo fa qualcun altro va bene il portiere grazie a dirlo sì fa qualcun altro ero preoccupata che facessi anche il portiere dicevo caspita come cavolo fa farsi tutto il campo e poi andare anche in porta eh no no bene allora faccio io sei anche utrice ci parli di Giada e Simone perché mi scelgo di scrivere sul coronavirus allora rispondo all'ultima domanda è successo questo che io un giorno su facebook ho letto che una giornalista che si chiama Laura Valle aveva eh inventato questo hashtag fai volare una fiaba e sostanzialmente ehm c'era su su Morellini sulla pagina Morellini Morellini editore che di fatto è anche l'editore del del romanzo c'erano già alcune fiabe la eh giornalista ha inventato questo eh questo 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 hashtag fai volare una fiaba a seguito del coronavirus che cosa è successo che una volta la sua bambina piccolina le aveva chiesto qualche cosa rispetto a questo disastro perché tipo banalmente le avrà chiesto non ricordo esattamente ma tipo perché non possiamo mai uscire è piccina la figlia e allora lei per spiegarglielo ha inventato una fiaba che è quella che dal titolo al libro il mostro con gli occhi rossi ha inventato questa fiaba per questa bambina per la sua bambina da lì le è venuta l'idea perché non raccogliamo delle fiabe che parlino del coronavirus in modo che anche altri bambini possano sapere che cos'è che cosa sia allora ha fatto la proposta a Morellini Editore che ha detto perché no le raccogliamo sulla pagina e vediamo che cosa succede io le ho viste e cosa ho fatto di mia spontanea volontà mi sono messa a leggerle ad alta voce e a metterle sul mio profilo di youtube chiaramente scrivendo l'autore scrivendo la fiaba facendo tutte le cose molto bene ed è piaciuta moltissimo questa cosa e allora piano piano ho iniziato a leggere già dal punto che anche altri attori hanno chiesto di poter leggere infatti c'è ad esempio Max Pisu che è un comico è un attore un comico molto importante poi addirittura Nicchetti Maurizio Nicchetti che tu non lo conosci perché sei piccolino però è un attore importante anche lui e poi un bel giorno ma così ti dico proprio dal niente mi sono messa con il cellulare a dettare questo racconto che mi è balenato in testa perché a dettare perché io sono tutt'altro che sono prolissa in generale quando scrivo prolissa vuol dire che non riesco a fare riassunti cioè che sono lunga e allora che cosa succede che man mano che scrivo non ti dico che mi dimentico quello che stavo pensando perché sennò vorrebbe dire che ho qualche però mi sono accorta che dettando facevo prima cioè l'idea mi veniva più veloce non scappava quantomeno allora mi sono messa a dettare al telefonino questo racconto e caspita praticamente in un secondo l'ho fatto tutto e l'ho finito l'ho riletto ho chiamato mia mamma ho parlato con Sabrina De Bastiani che è la ragazza che è qui la mamma dei tre gemelli e mi ha detto secondo me è bellissimo mia mamma ha detto secondo me è bellissimo e mi ha detto sai senti che c'è io lo mando e vedremo come andrà l'ho scritto me lo sono letto e l'ho mandato è andata bene e quindi ce l'hai anche tu ma sei un grande in più ora un libro vai allora in più questo libro il mostro con gli occhi rossi e altre storie sostiene le attività a favore delle persone con autismo e disabilità di fondazione Renato Piatti Onlus quindi questo mi ha prima vai scusami ok quindi vi consiglio di leggerlo grazie 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 di questo di questo tuo intervento perché tra l'altro fare per la prima volta un racconto pubblicare un racconto e sapere che andrà ad aiutare dei bambini è stata è stata è stata una gioia ancora ancora più grande tu pensa che all'inizio questo libro è nato come ebook no e quindi si poteva acquistare come ebook e poi ha avuto talmente tanto successo che hanno deciso di fare la forma cartacea quindi direi che anche con la forma cartacea si continua ad aiutare l'associazione Renato Piatti giustamente come hai detto tu che aiuta i bambini autistici e con problemi di comunicazione quindi wow è un onore essere qui dentro con il mio nome tocca a me? sì 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 oh e allora tra l'altro siamo vergognosamente puntuali perché io avevo ipotizzato un'oretta sono le 18.42 quindi siamo perfetti e allora posso farti l'ultima domanda chissà se è l'ultima ma penso di sì comunque ed è parlando di recensioni di interviste quindi parlando di questo mondo qua qual è il complimento che ti ha reso più felice? allora che molti autori illustratori mi hanno detto che sono professionale wow e quindi ho raggiunto il mio obiettivo perché all'inizio facevo recensioni solo per i bambini poi ho iniziato a mettere più professionalità a cambiare passo e così possono vederle anche gli adulti e magari prendere spunto per far leggere i propri figli sei una meraviglia mi fai l'inizio delle tue delle tue recensioni come parti sempre ciao sono Null me lo fai? ok bene a tutti ragazzi benvenuti benvenuti in questo nuovo video sono Null oggi vi farò una nuova recensione di Null sì Lucia oggi vi farò una nuova recensione sull'intervista che abbiamo fatto io e Lucia insieme e di questa puntata speciale in diretta che sicuramente avrà un seguito almeno io vorrei che lo avesse perché mi sono divertita da morire voilà e quindi cosa ci diciamo mi devi chiedere ancora qualcosa tu non me lo ricordo sì ultima domanda vai allora tra i tuoi progetti in futuro hai in mente qualche altro racconto? l'ho già scritto l'ho già scritto perché sempre per colpa di quella signora che si chiama Sabrina De Bastiani mi ha detto che non so se posso dire non so se posso dire quindi non dico nulla però io posso dire che grazie a lei sono stata un po' come si suol dire spinta sono stata un po' motivata da lei a scrivere un altro un altro racconto e ho fatto come la prima volta mi sono messa lì col cellulare mi è venuta l'idea l'ho dettato tutto e poi l'ho riletto e ho detto ma sai che c'è non è male quindi adesso anzi mi è fatto venire in mente che lo devo correggere perché mi sembra che intorno ai primi di agosto si debba consegnare so soltanto e posso dire soltanto se lo prenderanno perché non è detto che poi la casa editrice lo vorrà però se lo prenderà se lo vorrà so che che sarà un'altra cosa legata alla beneficenza quindi sarò felicissima se verrà accolto e verrà preso in considerazione ok ok noi ci siamo detti tutto si io ho finito le domande anche io ho finito le domande però mi dispiace un po' salutarti che cosa ci possiamo inventare ascolta mi prometti promettimi che intanto siamo in diretta ci vedono tutti mi prometti che se non te la senti mi dici di no perché mi è venuta un'idea adesso proprio così io purtroppo sono così però se non te la senti mi dici di no ok vai 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 ti andrebbe di leggere con me un pezzo della fiaba sul coronavirus che ho scritto vai dai tu fai Simone io già da questa giuro che non era preparata eh allora io so la pagina memoria pagina 43 ma perché l'ho scritto io ma se sei anche tu bravo ci sei arrivato prima di me però ma pensa che bella idea che mi è venuta allora allora vabbè dovrete avere un po' di pazienza perché non abbiamo sottolineato ovviamente i dialoghi quindi proviamo? proviamo allora io ho trovato il primo dialogo ci sei? anch'io perfetto ciao Simone come stai? ciao Giada che piacere sentirti io sto abbastanza bene sempre chiusa in casa anche tu? sì non mi dire niente non ce la faccio più ma tu hai capito perché non possiamo uscire né andare a scuola? sì certo per colpa di quel virus che da quando ha trovato una corona pensa di essere il padrone di tutta la città e chi gliel'ha data questa corona? non lo so so soltanto che da quando pensa di essere re nessuno può più uscire di casa perché uccide tutti quelli che incontra ma mica con un'arma non ha neanche un coltellino si avvicina fa finta di chiederti un'informazione e quando tu stai per dargliela ti tossisce sulla faccia e muori cavoli ma come possiamo fare a cacciarlo via? non saprei secondo me però i nostri genitori hanno ragione se noi stiamo tutti a casa lui non potrà più uccidere nessuno ha provato con qualche animale ma senza successo anzi una volta un cane gli ha morsicchiato quel musetto microscopico che ha ed è scappato via come un missile quindi se non stiamo a casa lui chi può uccidere? nessuno esatto Giada nessuno quindi prima o poi si stancherà abbandonerà la nostra città e andrà e andrà altrove sì Simone però a me non sta bene questa cosa perché anche se va da altre parti poverini quelli lì a quel punto toccherà anche a loro stare a casa per non essere uccisi bisognerebbe proprio distruggerlo ma come possiamo fare? noi nulla purtroppo però mi sembra di aver sentito il mio papà dire alla mamma che c'è un gruppo di scienziati che stanno cercando un vaccino che cosa? vogliono dargli un bacino? ma si è cattivissimo perché cocolarlo? ma no Giada cosa hai capito? ho detto un vaccino non vaccino mi ha spiegato papà che è una cosa che gli mettono sulla testa e lui boom esplode davvero? e quando sarà pronto questo questo come hai detto che si chiama? vaccino Giada vaccino eh vabbè ho capito vaccino quando sarà pronto? non si sa stanno studiando ma sai gli scienziati sono persone molto intelligenti vedrai che presto lo troveranno e allora potremmo rivederci finalmente a proposito ho deciso cosa voglio fare da grande davvero? e che cosa? io da grande voglio fare lo scienziato che bello Simone lo scienziato mi piace posso farlo anch'io? certo ma tu sei una femmina quindi sarai una scienziata vabbè scienziato scienziata non importa l'importante è che ci sia un banco accanto all'altro così possiamo stare vicini per sempre wow ma hai fatto un regalo stupendo ma sai che mi sono un po' commossa ma non potevo piangere mi sono proprio divertita anche io anche io allora ascolta direi che possiamo aspetta che guardo se magari c'è qualche domanda dal pubblico aspetta eh che a volte fanno anche delle domande oh mamma mia commozione complimenti è una serata molto carina e divertente ci scrive Maria Francesca Tommasini che tra l'altro scrive qui la strocca è stupenda per bambini qui guardano spettacoli insieme siete bellissimi spettacolo insieme siete bellissimi ma che meraviglia Null poi bello sveglio il ragazzino grandissimo Null fagli recensire il mio libro di favole uh sì Bruno Volpe ha scritto un libro di favole adesso poi te lo do così recensisci anche il suo libro curiosissima scrive la lalale favolosi scrive Giada Franco buon proseguimento ciao a tutti serata piacevolissima poi guarderà indifferita ma che bravi che siete questo ragazzino è troppo avanti i bambini ormai nascono già belli svegli ma non tutti tu sei un po' speciale non riesco a vedervi da tempo cosa vuol dire si vede che non ha tempo ci ascolterà poi indifferita bravissimi magnifici bravissimi insomma abbiamo avuto un successo strepitoso questa sera insieme e allora direi che possiamo fare una cosa io e te poi ci sentiamo adesso salutiamo tutti perché sono le 18.51 quindi salutiamo ciao buona serata ciao buona serata a tutti tu stai fermo lì non ti muovere che adesso io chiudo la diretta non ti muovere che chiudi la diretta che io chiudo la diretta ma io e te ci raccontiamo ancora qualche cosa invece al mio pubblico e spero che abbiano partecipato anche gli amici e i followers di Null e vi dico che questo giovedì devo lavorare e quindi ahimè salta la diretta con Carol per i romanzi ma mi farò perdonare facendo una diretta bellissima la prossima settimana noi ci vediamo lunedì prossimo con Ophelia Bizet e i Maghi Migranti e chissà che non avrò di nuovo ospite questo meraviglioso ragazzino non lo so perché devo leggere sono rimasta indietro sono rimasta indietro magari lo leggiamo insieme grazie grazie a tutti voi di essere di essere stati qui con me questa sera vi ricordo in libreria con Null il canale YouTube di Null e devo dire che ha un sacco di iscritti beato lui io che invece poverina ne ho soltanto 250 se poteste cortesemente quelli nuovi che non mi conoscono andarsi ad iscrivere al mio canale Lucci underscore legge chissà magari trovate cose che vi piacciono sicuramente ci sono tante favole ma non solo io vi abbraccio vi bacio e ci vediamo al più presto ciao ciao Null e grazie di cuore di essere stato con me questa sera ciao buona serata a tutti oh